Best for soil, sovesci e cover crops, informazioni pratiche. Ciao, mi chiamo Michaela e coltivo cover crops e sovesci. In questo video è possibile imparare come coltivare cover crops e sovesci e perché sono uno strumento importante per migliorare la salute del suolo. Le cover crops vengono coltivate tra la raccolta di una cultura principale e la semina della cultura principale successiva. Le ragioni fondamentali per coltivare le cover crops sono proteggere il suolo dall'erosione, aumentare la fertilità del suolo, migliorare la struttura del suolo, facilitare l'infiltrazione dell'acqua e conservare i nutrienti nell'orizzonte superiore del suolo. Esistono diversi termini per questa pratica agronomica e possono essere usati più o meno nello stesso senso. Tuttavia, possono esserci alcune differenze specifiche nella gestione delle colture, a seconda di quale sia il motivo principale per coltivare le cover crops. Quando le cover crops sono incorporate nel terreno, di solito vengono definite sovescio. Le colture intercalari vengono utilizzate per evitare la perdita di nutrienti, in particolare la lisciviazione dell'azoto. Molte specie diverse vengono utilizzate come cover crops, ognuna presenta vantaggi e requisiti specifici. Alcune sono resistenti al gelo e sopravvivono all'inverno, altre invece sono sensibili alle basse temperature e muoiono. I nutrienti assorbiti dalle colture di sovescio vengono restituiti al suolo per essere utilizzati dal raccolto seguente. La scelta delle cover crops, basata su conoscenze ben precise, migliora le rotazioni delle colture. Le cover crops con una sensibilità patogena diversa dalle principali colture in rotazione riducono il potenziale complessivo delle malattie trasmesse dal suolo. I database best for soil sono strumenti molto importanti per determinare quali cover crops si adattano meglio a una rotazione delle colture. Gli essudati radicali e la sostanza organica aggiuntiva fornita dalle cover crops possono stimolare l'attività microbica del suolo e influenzarne la composizione. Entrambi i fattori stabilizzano e rafforzano la comunità microbica che a sua volta può ridurre il rischio delle malattie trasmesse dal suolo. Un importante gruppo di cover crops è rappresentato da specie erbacee, comprese alcune strettamente correlate alle colture di cereali. Sono a crescita rapida e alcune specie si adattano anche a basse temperature. Le sementi per queste colture sono facilmente disponibili in tutte le regioni d'Europa. Le colture erbacee non possono essere utilizzate solo come sovesci, ma anche per il pascolo o l'alimentazione degli animali. La maggior parte delle specie erbacee è resistente all'inverno. Un altro importante gruppo di cover crops è rappresentato dalle brassiche. Sono particolarmente rapide nella crescita e sono quindi ottime per sopprimere le popolazioni di erbe infestanti. Alcune sono usate per ridurre l'incidenza della malattia nelle rotazioni ricche di cereali, altre per evitare la lisciviazione dell'azoto. Alcune cover crops di brassicacee sono resistenti all'inverno, mentre altre sono sensibili al gelo. Un altro vantaggio delle brassicacee sono i loro fittoni radicali profondi che aiutano a migliorare la struttura del suolo. Le specie leguminose hanno il vantaggio di fissare l'azoto e quindi fornire questo importante nutriente alla successiva coltura principale. Diverse specie di leguminose vengono utilizzate come cover crops, dal piccolo seme di trifoglio alla veccia di medie dimensioni fino alle fave con semi di grandi dimensioni. I legumi hanno le migliori prestazioni quando vengono introdotti all'inizio della stagione e sono usati principalmente in miscela con altre cover crops. Esistono diverse specie a crescita rapida comunemente utilizzate come cover crops, come la facelia, il grano saraceno o la calendula. Informazioni dettagliate su tutte queste specie sono pubblicate in una scheda informativa di Best for Soil. Le cover crops richiedono nella coltivazione la stessa cura riservata alle colture principali. Un letto di semina ben preparato è essenziale per un raccolto di successo. L'applicazione dell'azoto è particolarmente importante per garantire una cover crop ben sviluppata. Analogamente alle colture principali, si deve comunque prendere in considerazione l'azoto lasciato dalla coltura precedente. La preparazione del letto di semina è essenziale per garantire l'insediamento rapido e lo sviluppo della coltura. Dovrebbe essere adatto alle esigenze specifiche del seme. Per garantire la riuscita della coltura dovrebbero essere utilizzati semi sani con un alto tasso di germinazione. L'irrigazione potrebbe essere necessaria per le colture coltivate in estate, in particolare per le specie a rapida crescita, come senape o sorgo. Le cultivar selezionate dovrebbero essere resistenti alle malattie e ai parassiti maggiormente presenti nel territorio in cui sono coltivate. Alcune cultivar hanno tratti specifici come la produzione di metaboliti secondari che possono avere un effetto biofumigante. Ulteriori informazioni sulla biofumigazione sono disponibili in un video e una specifica scheda informativa. Alcune cover crops o cultivar moriranno durante l'inverno, il che aiuta a facilitarne l'incorporazione nel terreno nella primavera successiva. Tali cultivar non sono adatte come sovescio primaverile in quanto si decompongono prima della loro incorporazione primaverile. D'altra parte, le cover crops coltivate in estate, specialmente nell'Europa meridionale, devono essere resistenti al calore. Pertanto, la scelta delle cultivar adattate alle condizioni climatiche locali è di fondamentale importanza. Poiché le cover crops possono essere anche piante ospiti di malattie trasmesse dal suolo. La loro selezione deve adattarsi alla rotazione delle colture principali coltivate per generare reddito. Le specie erbacee si adattano particolarmente bene ai sistemi di produzione vegetale dove non vengono coltivate specie non erbacee. Le brassicacee sono più adatte alle rotazioni conseminativi, dove, ad eccezione della colza, normalmente non vengono coltivate altre specie di questa famiglia. Invece non si adattano bene ai sistemi di produzione vegetale, specialmente nel nord Europa, in cui vengono coltivate molte verdure del genere brassica. Infine, e soprattutto, la scelta della cover crop o del sovescio dipende in primo luogo dal motivo per cui è stato seminato. Ridurre le malattie trasmesse dal suolo? Evitare la lisciviazione dell'azoto? Proteggere dall'erosione? Aumentare la sostanza organica? Indipendentemente da ciò, la compatibilità delle cover crops con la rotazione delle colture principali deve essere verificata con l'aiuto dei database Best for Soil.